ciao stelline ben atterrati sul canale allora mi sono svegliata da poco stamattina non è proprio bello come ieri il letto ancora così non vi ho fatto il room tour bene della stanza l'altra volta quindi ve lo faccio vedere adesso intanto vediamo anche fuori comunque allora è un po più coperto oggi vi faccio vedere meglio il mare calmo però ieri una giornata splendida però le previsioni erano peggiori invece alla fine ha piovigginato un po ma adesso si sta schiarendo già speriamo che oggi pomeriggio venga ancora meglio e praticamente sta spiovendo ecco e e quindi la temperatura insomma è tiepida si sta bene adesso vi faccio vedere la stanza allora beh devo dire che è una bella vacanza il soggiorno per ora sta andando alla grande allora è veramente grande questa suite enorme questa qui va bene la camera da letto ve l'ho fatta vedere di qua c'è il bagno bello grande la doccia vabbè insomma guardate ho ancora la tuta praticamente qui ci sono altri due letti che io non utilizzerò ma essendo una suite ovviamente a due stanze qua c'è l'armadio accendiamo un po la luce perché così è un po più chiaro allora qui c'è un armadio enorme ho messo le cose che ho portato che tra l'altro ho già messo avevo preso questo pantalone molto bello che avevo appena acquistato un po così un pantalone palazzo molto bello avevo portato un abitino rosa oggi metterò forse questa maglia qui che è un po scollata sulle spalle e poi avevo preso questa giacca e il tailleur bordeaux nuovo che avevo appena preso che mi avete già visto nel video in alessandria metterò questa camicia stupenda tipo versace che mi piace moltissimo e questa è una maglia di un colore molto carino verde un verde acido vedremo se la utilizzerò e poi ho portato facciamo vedere anche l'altro armadio una bellissima tutta che se non farà tanto freddo metterò che è così con il pantalone palazzo in fondo guardate che bella che è questa è nuova nuova nel senso che l'ho presa l'avevo presa alla facit vedete è una taglia credo 40 e no l'avevo presa da un po ma non l'avevo mai messa è un po impegnativa un po elegante però diciamo che qua sanremo può andare bene magari con la giacca nera vediamo poi avevo messo l'altro giorno questa bellissima che mi piace un casino questa maglia è in puro filo e un po paiettata brillantinosa troppo bella mi piace questo grigio asfalto scuro rimane aderente e poi se fa un po più freddo la sera e lo fa questa qui con il colla lupetto che è in filo sempre paiettata mi piace un casino questa se non sbaglio l'avevo presa non so se da talleri o non riesco a ricordarmi comunque l'ho presa in alessandria questa qua vedete che ha le manichine un po così sulle spalle a sbuffo e poi qua rimane aderente ed è corta in vita quindi può star bene con un pantalone magari a vita alta così poi qua c'è un gran casino cioè le valigie aperte c'è di tutto e di più avevo tirato fuori tutta la bisotteria e guardate guardate i profumi intanto vi voglio far vedere un'anticipazione perché vi farò vi farò vedere tutti i profumi di cui vi ho parlato ma direi che lo farò con calma a casa perché fare il video dei profumi da qua anche no vi faccio vedere altro però mi sono presa vi anticipo già che ho preso questo qua di verset che per me è nuovo non so se l'avevate già visto ed è prezioso e questo è ispirato a libri di Yves Saint Laurent e mi piace tantissimo gli assomiglia molto il libro di Saint Laurent l'avevo preso l'anno scorso quello originale mi era piaciuto però non ero impazzita mi è piaciuto e mi è piaciuto come profumo però non era di quelli che quando l'ho sentito ho detto boom profumo della vita no questo qua che è leggermente è un pochettino più leggero purtroppo dura un po di meno ma dura anche questo mi è piaciuto quasi di più io ragazze vi sembrerà strano ma ci sono dei profumi di cui preferisco allora stelline si era interrotta la telecamera vi stavo parlando del profumo di libro di Saint Laurent mi sono messa qua tranquilla come vedete mi sono messa pure le calze perché non fa caldissimo stamattina e a vi stavo facendo vedere anche la stanza prima qua c'è la parte del salotto vabbè la suite bella grande molto bella mi piace moltissimo però vi stavo dicendo a e tra l'altro si sta schiarendo è il cielo per fortuna no vi stavo dicendo che praticamente ho anche mandato via la donna delle pulizie perché ho detto vabbè me ne sto tranquilla la pulizia le fate oggi pomeriggio stavo dicendo che in poche parole quel profumo di Saint Laurent quello lì che vi ho detto beh mi piaceva moltissimo l'originale però preferivo il dupe anzi anzi ve lo faccio rivedere tra l'altro vedete queste qua me le sono appena prese nuove sono troppo carine l'ho presa anche nere mi piacevano tantissimo sono troppo carucce allora vi rifaccio vedere un attimo allora le valigie che ho ragazzi un bordello vi stavo facendo vedere questo dupe e vi dicevo che è stupendo ah guardate la focaccia di recco che mi sono presa ho fatto una colazione mega galattica vi dicevo questo mi piace tantissimo dura leggermente meno ma è buono buono ragazze ne parlerò meglio quando torno insieme ai profumi che mi sono portata qua e vi dirò magari la piramide olfattiva vi dico una recensione più precisa perché l'ho appena messo qua ieri la prima volta e poi parliamo anche degli altri poi mi sono portata Poison come vi ho detto già ve l'avevo già accennato nell'altro video perché mi piaceva troppo adesso devo scegliere un attimo gli orecchini che mi devo mettere i gioiellini perché mi preparo velocemente che dobbiamo andare magari vi porto con me e vi dico oggi dove andiamo a dopo a dopo ciao 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 ciao